Il governo del compromesso, il governo dove ha funzionato più che mai il manuale Cencelli, un governo dove ha ministri che hanno fatto i ministri nei governi degli ultimi 15 anni, sicuramente non il governo dei migliori, infatti Toninelli avrebbe potuto starci senza fare particolare brutta figura. Questo è il tema. Quello che mi dispiace moltissimo è che questo governo dove molti italiani avevano grandi aspettative, poi invece sono stati profondamente delusi. Io lo dico da imprenditore, pensare che abbiamo un ministro del lavoro che è la sinistra della sinistra del Partito Democratico, Orlando, già mi tremano i polsi. Pensare, Giletti, che speranza ha fatto che l'attuale ministro ha fatto due cose nell'ultimo 48 ore che solo quelle varrebbero una rivoluzione. Venerdì alle ore 18 e 12 minuti usciva dal ministero, ovviamente, da Speranza che i ristoranti, venerdì 18 e 12, la domenica nelle regioni arancioni avrebbero chiuso. Questi qua sono lunari, non sanno cosa vuol dire fare il ristoratore. Cioè il venerdì sera la spesa, oltretutto domenica, è San Valentino oggi e le hanno detto che non potevano più aprire il ristorante, fatendoli buttare nel cestino tutta la spesa. Quindi vuol dire che non c'è il rispetto per il lavoro. E l'altra cosa importantissima, sempre un ministro di questo governo, cosiddetto dei migliori, che prima dicevano no, le piste da sci si può aprire, si potrà aprire. Oggi un'altra ordinanza dove le piste da sci, fino al 5 di marzo, non si aprono. Allora, netto delle posizioni di chi è di destra, di chi è sinistra, di chi è di centro, che poco importa a chi lavora, alle imprese, ai commercianti, ai maestri di sci, a tutti i camerieri, perché non è che ci sono lavori più importanti o meno importanti, che poi oltretutto li prenderanno in giro con la storia di prima, i famosi ristori, che infatti non sono indennizi, e dove la gente sta crepando di fame. Per cui l'idea che ci sia, scusi e mi taccio, speranza che noi siamo la nazione, che abbiamo il più alto numero di morti in Europa, confermato. Di Maio, il disastro in politica estera, a parte l'ignoranza proprio che ha dimostrato sulla geografia, ma al di là di questo, c'è qualche... Ma guardi, glielo direi anche se fosse presente, con l'assoluta mia trasparenza. Non capisco. E voglio dire... Ma adesso ci abbiamo visto dell'istruzione che parla bene l'italiano. La Lamorgese, io vorrei chiedere... No, 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 adesso no, adesso... La Lamorgese, quella che ha disfatto i decretti sicurezza. No, adesso non posso. No, anche sulla Lamorgese no. Adesso...